Tecnologia, design, sostenibilità e territorio. La nuova sede di Medstore a Piediripa racconta in ogni dettaglio la storia dell'azienda della famiglia Parcaroli. Una struttura vineristica in cemento armato, acciaio e vetro. Tra gli elementi distintivi che caratterizzano l'architettura, il suggestivo balcone all'ultimo piano con ulivi e all'interno due enormi alberi portanti in acciaio che simbolicamente rappresentano il legame con questa terra e le proprie radici. Io sono nato in questo territorio, l'azienda è cresciuta a macerata e quindi abbiamo rimesso ancora più radici qua nel territorio, costruendo questa cosa meravigliosa. Un grande investimento che unisce design, tecnologia, prospettive di lavoro. Sì, non volevo costruire un capannone. Abbiamo costruito un edificio architettonicamente bellissimo che riqualifica tutta la zona di Piediripa ma anche tecnologicamente alla vanguardia. Qui dentro questa struttura c'è tanta tecnologia. Un progetto di quasi 6 milioni di euro realizzato volutamente con fornitori marchigiani da Guzzini per l'illuminazione e a tanti altri coordinati da due giovani architetti di Camerino, Alessio Palmieri e Andrea Gianfelici di Arcom. Quindi questo più che un disegno di un edificio per noi è una narrazione architettonica di una storia di un'azienda. E per noi è una grande emozione oggi trovarci dentro, camminare dentro il nostro sogno. Una nuova struttura attenta a tanti aspetti, da quello green al tecnologico, al design, al territorio. Nello studiare questo edificio abbiamo fatto attenzione a diversi aspetti. Sicuramente in primis l'aspetto green, quindi l'attenzione all'ambiente. L'attenzione all'ambiente che parte dai materiali che abbiamo utilizzato e dal risparmio energetico insito nella struttura, ma continua poi nell'attenzione che abbiamo voluto dare ai nostri ragazzi, a chi lavora qui dentro per spingerli poi anche loro ad essere più ecologici e più attenti all'ambiente. Quindi acqua sotto forma di purificatori, fornita dai nostri purificatori dell'acqua, borracce per l'utilizzo e via dicendo. L'attenzione quindi all'ambiente, l'attenzione ai ragazzi che lavorano all'interno della struttura, un'attenzione ai fornitori che hanno lavorato in questa struttura, quindi abbiamo come filosofia scelto unicamente aziende del territorio per aiutarle sicuramente, ma anche perché il nostro territorio è pieno di grandissime professionalità. Costruita in meno di tre anni, la struttura pensa già all'ampliamento con un auditorium di oltre 180 posti che sarà realizzato entro l'estate accanto alla nuova sede. Inoltre, sempre nel 2020, tra gli obiettivi del gruppo MedStore, c'è anche l'apertura di altri 10 punti vendita che si aggiungono ai 19 già esistenti in tutto il centro Italia.